avevo sto gorilla che mi guardava mentre mangiava le foglie, gli arbusti lì e scorreggiava davvero? sì perché praticamente i gorilla di montagna si nutrono e assumono i liquidi al 99% dalla vegetazione che li circonda quindi mangiano foglie dalla mattina alla sera che fermentano, gli creano queste panze ignoranti e scorreggiano, gli mettono questi peti lunghissimi e sottili no ma al di là delle scorreggie tu, cioè quando li ho sentiti arrivare è stato pazzesco sì bravo stavo pensando la stessa cosa cioè noi eravamo lì li dovevano raggiungere mettiamo giù gli zani ci disinfettiamo le mani e tutto mega imparanoiati con il covid perché hanno scoperto che potevano essere contagiate anche i gorilla va bene e poi a un certo punto si muovono i cespugli e io senti così e il gorilla arriva esce dalle frasche mi vede piccolino e si pietrifica io più pietrificato ancora tipo gli faccio le foto senza neanche guardare lo schermo e poi arriva la mamma e tutto arriva tutta la cumpa è stato fighissimo è stato fighissimo